Fiamme dolose la scorsa notte intorno all'1.30 a Ebol in un palazzo di piazza Mustacchio. I carabinieri hanno fermato un uomo di origini straniere che aveva ostioni sul corpo, considerato il presunto responsabile dell'incendio davanti al portone dello stabile. Sul posto un'ambulanza. I medici hanno visitato tre persone, tutti abitanti del palazzo, per una leggera intossicazione. Si è udito un botto, poi il fumo ha invaso il palazzo danneggiando diversi appartamenti. Questa mattina è stato fatto il sopralluogo.